Una ragazza di 26 anni di origine albanesi ha tentato di suicidarsi oggi pomeriggio con l'alta tensione dopo una lite in famiglia. Poco dopo le 13.30 la donna, in preda alla disperazione dopo aver litigato, sembra dalle prime ricostruzioni per futili motivi con il conuge, è salita su un traliccio dell'alta tensione a Bellocchi di Fano. Il suo intento non era quello di farla finita lanciandosi nel vuoto dagli oltre 20 metri d'altezza della struttura, ma di rimanere folgorata toccando i cavi dell'alta tensione, cosa che effettivamente ha tentato di fare, ma che non ha portato ad alcuna conseguenza fisica per la donna. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Fano e grazie al dialogo instaurato dai due agenti con l'aspirante suicida si è potuto evitare il peggio. I due agenti con grande freddezza hanno dapprima tranquillizzato la donna e poi l'hanno guidata nella discesa a terra dal traliccio, dove la 26enne è arrivata sana e salva appena in tempo per essere presa in carico dal 118, arrivato assieme a una squadra dei vigili del fuoco ed essere accompagnata in ospedale, dove è stata ricoverata per accertamenti.